Ciao ragazzi, finalmente torno con un nuovo video, innanzitutto come state? E' un po' che non ci sentiamo, un po' che non carico un video qui su YouTube. L'ultimo che avete visto è stato quello della festa che abbiamo fatto per annunciare a tutti i parenti il sesso del baby, che appunto è un maschietto, come avete visto, la prima sensazione che ho avuto ha azzeccato, perché me lo sentivo, anche se infatti abbiamo indovinato tutti e due. Sono anche in azzurro oggi, pronta per registrare un video sempre a tema gravidanza, rispondo alle domande che mi avete fatto sul primo trimestre di gravidanza. Le domande me le avete lasciate nella box che ho aperto su Instagram qualche settimana fa, oggi ho una mezz'oretta di tempo, quindi vi rispondo. Partiamo dalla prima domanda, come sempre ne avete fatte diverse, stavolta seguirò l'ordine cronologico delle domande, in questo modo non ne dimentico nessuna, se poi c'è una che si ripeta andrò a saltarla. A che mese sei? Quando dite se è maschio o femmina? Ormai questa box io l'avevo aperta ancora prima di annunciarvi il sesso. Oggi sono entrata nella diciannovesima settimana, sono nel quinto mese e aspettiamo un maschietto. Tra l'altro vi faccio vedere la pancina, che si vede ancora un po' pochino, però dai, un accenno inizia ad esserci. Passiamo alla prossima domanda. Sai già che tipo di parto farai? Per ora, i vostri nomi preferiti quali sono? Allora, lato nomi ormai l'abbiamo scelto, eravamo indecisi tra due nomi, però ancora non vi diciamo il nome, lo vogliamo tenere ancora un attimino per noi. Per quanto riguarda invece che tipo di parto farò, al momento è tutto ok, quindi parto naturale, spero nel parto naturale, sperando che il bambino sia nella posizione giusta e tutto quanto. Devo ammettere che un po' di paura nel parto ce l'ho, al momento non ci sto pensando, ma conoscendomi quando arriverà il momento, qualche giorno prima della data presunta del parto, inizierò a farmela sotto, però intanto non pensiamoci. In realtà queste domande per ora non sono proprio dedicate al primo trimestre, perché comunque ci sono anche altre curiosità che avete proprio sul percorso gravidanza e so che tanti di voi che mi seguono su Instagram, principalmente perché lei che riceve i vostri messaggi, tanti di voi sono in dolce attesa come me, tante sono all'inizio, quindi hanno qualche consiglio in più insomma da chiedermi, anche a livello di sintomi, e come è stata, quanto è durata la ricerca della gravidanza, cosa magari ho fatto, insomma c'è il grande interesse su questo aspetto, proprio il tema gravidanza, quindi è piacere guardarvelo anche qui su YouTube. Prossima domanda, sintomi che hai avuto? Io ragazze sono stata non fortunata di più perché io non ho avuto alcun tipo di sintomo. Io ho fatto il test di gravidanza quattro giorni dopo il ritardo, considerate che io comunque avevo un ciclo abbastanza ballerino, nel senso che non era sempre fisso di 28 giorni, 30 giorni o non lo so, 33 giorni, era un po' ballerino. Poi ho iniziato una cura e mi ha prescritto il ginecologo, quindi prendendo, cioè seguendo questa cura, il ciclo più o meno era preciso. Non mi è arrivato, però ho avuto anche mesi dove il ciclo mi era saltato, quindi più di tanto non mi sono preoccupata, cioè nel senso non ho pensato subito alla gravidanza, cioè un po' sì ci ho pensato, però ho detto non illudiamoci neanche a questo mese perché non è detto. Quindi ho aspettato un giorno, il ciclo non arrivava, il secondo giorno non arrivava, il terzo non arrivava, il quarto sabato mattina ho deciso di fare il test di gravidanza. In realtà ho fatto il test di gravidanza soltanto perché il ciclo non si presentava, poi sintomi non ne avevo se non un po' di crampetti da ciclo in arrivo, ma che però non arrivava. Ho fatto il test, è uscito super positivo, proprio la scritta incinta è uscita nel giro di meno di un minuto e poi è uscita la dicitura due o tre settimane, perché quando l'ho fatto ero già, diciamo, alla fine alla quinta settimana di gravidanza. E nel corso poi e delle settimane successive non ho avvertito sintomi particolari. Come vi ho detto, non ho mai avuto alcun tipo di nausea, non ho mai vomitato, non sono mai stata male, ho sempre dormito benissimo, anche adesso dormo benissimo, non ho mai sofferto di stanchezza, andavo sì a dormire magari un po' prima rispetto a quello che ero abituata, ma in realtà grandi cambiamenti non ci sono stati. Ho proprio vissuto l'inizio della gravidanza molto bene perché il mio fisico ha risposto benissimo, non ho mai avuto niente. davvero nessun sintomo. Un po' le prime settimane dopo aver scoperto, insomma, di essere incinta, avevo un po' di fastidi, di leggeri crampetti, tipo da ciclo alla pancia, ma una cosa che durava comunque davvero poco. Si presentavano una volta al giorno e duravano neanche cinque minuti, cioè una cosa comunque molto leggera. e ancora adesso, essendo comunque al quinto mese, sto ancora benissimo e le mie abitudini non sono cambiate, sono un po' nell'alimentazione, però per il resto davvero sono molto molto contenta perché il percorso sta andando davvero bene e proprio io sto bene, quindi questo è l'importante. Ovviamente so che non per tutte è così perché la maggior parte delle donne comunque soffre di nausee mattutino, di nausee serali, vomitano, quindi questa è soltanto la mia esperienza, ovviamente della mia prima gravidanza, perché magari nella seconda gravidanza invece starò malissimo, perché poi dipende, ogni gravidanza dicono che sia a sé. Scusa se te lo chiedo, ma su Instagram farai vedere il bimbo o la bimba appena nasce? Sì, penso proprio di sì, non vedo quale sia il problema, non ho timore, nel senso non ho una paura di pubblicare le foto del bimbo, perché appunto adesso si sa che è un bambino, su Instagram, magari non subito il primo giorno, ma magari invece anche sì. Vedrò al momento, per ora vi dico non ho problemi a riguardo, quindi penso proprio che vi farò vedere il piccolo su Instagram in tutto il suo splendore. Andiamo avanti con le domande. Ciao cara, ti seguo da poco, sono di 15 settimane, una settimana in meno alla tua auguri. Un bacione, auguri anche a te. Come vi ho detto, sto registrando questo video un po' dopo le domande che mi avete fatto, quindi anche io sono andata un po' avanti, perché appunto sono la diciannovesima settimana e come vi dicevo prima, sono contenta perché tanti di voi hanno iniziato a seguirmi proprio per questo nuovo percorso che accomuna tanti di noi, quindi ci scambiamo tanti messaggi, tante esperienze, comunque consigli, chi più avanti di me magari mi lascia dei consigli, chi invece indietro mi fa delle domande, insomma ci supportiamo un po' in questo percorso che è meraviglioso ma a volte un po' spavento, quindi insomma sono contenta di condividere questo aspetto della mia vita, questo percorso della mia vita anche con voi e sono proprio contenta che tante sono in dolce attesa come me e magari dopo tanto tempo sono riuscite insomma a coronare il loro desiderio, quindi davvero mi fa molto molto piacere parlare di questo argomento. Nessuna domanda? Sarete di genitori stupendi? Un bacio, grazie mille, speriamo, speriamo perché sarà la prima volta, quindi aiuto, vediamo, vediamo come sarà, dicono che poi si impara subito però vedremo, vedremo. Da quando ho iniziato ad avere le prime nausee? Non le ho mai avute, che bello. Hai avuto tanta paura? Sono entrata nella sesta settimana e sto vivendo tutto con terrore, devo essere sincera? No, non ho mai avuto alcun tipo di preoccupazione, non ho mai avuto ansie sul percorso della gravidanza, l'ho proprio vissuta serenamente, sia il discorso proprio del fatto che io sia stata bene fin da subito, ma anche proprio sono partita subito positiva con questa gravidanza e sta proseguendo così, quindi sono contenta di aver preso questo percorso con la più grande positività che potevo avere, quindi no, io paure non ne ho mai avute. Ovvio quando faccio mare l'ecografia, poco prima dell'ecografia, sono un po' mare agitata perché sono curiosa di vedere il piccolino e sapere che è tutto ok, però per il resto durante poi il mese che passa tra un'ecografia e l'altra non ho mai avuto preoccupazioni, sarà magari il carattere. Il consiglio che voglio darti è quello di vivere questo percorso con meno ansia, cerchi di essere più positiva perché se tu sei tranquilla, serena e positiva, il bambino lo percepisce e sicuramente gli farà bene anche a lui, quindi cerca di accantonare le ansie o le preoccupazioni perché alla fine andrà tutto bene, lo avete detto subito ai vostri genitori? Sì, dopo circa 5 giorni ai miei genitori e dopo una settimana ai genitori di step, era un discorso che non siamo riusciti a vederci prima e quindi abbiamo aspettato a fine una settimana, però l'abbiamo detto subito dopo aver scoperto, insomma, dal test di gravidanza. Come ti senti? Benissimo, davvero bene, 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 vi faccio ridere, il ginecologo nell'ultima ecografia quando sono andata mi ha detto non sembri neanche incinta, sia a livello di pancina perché ce n'è davvero poca, ma proprio anche a livello di... non so come descriverlo, come mi ha visto non appaio una ragazza in dolce attesa, cioè non so se capita il mio discorso, ma me lo dicono in tanti quando dico sono incinta, ah sì, sei incinta, ma dove è la pancia? Ma di quanto sembra sia all'inizio soltanto? Perché sto proprio bene, non mi sono ad esempio gonfiata, so che c'è chi si gonfia, c'è chi dice che cambia il viso, che cambia il viso quando una donna è incinta, io devo essere sincera non ho notato niente di diverso nel mio aspetto, e anche il ginecologo stesso proprio me l'ha detto, non sembra che tu sia incinta perché stai benissimo, continua così perché va benissimo così. Hai preso chili? Sì, ovviamente sì, ho preso, ve lo dico perché non vi faccio problemi, al momento ho preso, aspettate che vado a controllare l'applicazione perché ogni 10 giorni vado a pesarmi per tenere monitorato il peso, ora non ricordo, mi sono pesata l'altro giorno, ho segnato e non mi ricordo più quanto peso ho preso dall'inizio della gravidanza. Al momento ho preso 4,5 kg da quando ho scoperto insomma di essere incinta, dovrebbe andare bene, l'ultima volta che ci sono andata mi ha detto che anche il peso era tutto ok, insomma non ero troppo, non avevo preso troppo peso, avevo preso diciamo il peso diciamo standard che si prende nel percorso dei mesi in cui sono, quindi per il momento diciamo che l'unica cosa nel mio aspetto che è cambiata è la pancia che ovviamente inizia a farsi vedere, quindi anche se non è ancora una pancia enorme, però inizia a farsi vedere specialmente con ovviamente vestiti più aderenti, questo è un vestito morbido, quindi magari si camuffa un po' di più la pancia, però in costume si vede, ad esempio se siamo stati al mare qualche giorno fa e davanti più di tanto mare non ci fa il caso, sembro solo un po', cioè non ho pancia piatta, solo mare un pochettino più gonfia, ma se mi metto di lato allora la pancina da gravidanza comunque si vede, però per il resto sulle gambe, in viso, non ho preso peso, se è tutto concentrato sulla pancia, forse appena appena nei fianchi, forse, però per il resto è tutto pancino. Si dice che cambia anche l'aspetto della pelle, è vero? Boh, io in realtà grandi miglioramenti nella pelle non li ho visti, anzi ho sempre dei piccoli sfoghi qui sulle guance, non so se è dovuto alla gravidanza o ad altre cose, però io ho grandi cambiamenti nella pelle e sinceramente non li ho visti. Come si sente se ha il pensiero di diventare papà? Diciamo che più passano i mesi, più concretizziamo, iniziamo a concretizzare questa cosa, siamo molto contenti, io sono molto contenta, ma anche lui è molto contento di diventare papà e non vediamo l'ora di vedere il piccolo e di averlo tra le nostre braccia e sono contenta di come stai sta prendendo questo percorso, perché anche lui è molto, molto, molto positivo e questa sicuramente è una cosa che fa bene alla coppia e alla gravidanza in sé. Ciao Giada, ciao, domenica entro nel quarto mese, ma ancora tantissima nausea e sapore amaro in bocca. Mi spiace, so purtroppo che tante soffrono di nausee e che vogliono che questo periodo finisca il più velocemente possibile, perché è brutto avere costantemente la nausea tutti, tutti i giorni, non riesco a dirti, non posso dirti, ti capisco, perché io non l'ho mai avuta, però so che è dura, quindi tieni dura perché prima o poi passerà. Che sintomi hai avuto in questo trimestre? Anche qui niente di particolare, ho già risposto, sto bene, non ho mai avuto niente, è come se non fossi incinta e questa cosa mi fa davvero strano, perché un minimo, un qualche piccolo sintomo, dico, boh, dovrei averlo. L'unica cosa che ti posso dire adesso, questo non è il quinto mese, la sera sento un po' più di peso sulla pancia, inizio a sentire, non è che inizio a sentire il peso della pancia, però verso sera la sento un po' più pesante, cioè sento che c'è qualcosina in più e è un po' più dura, tira un pochettino di più, ma per il resto, durante poi tutta la giornata, come se niente fosse. Hai comprato vestiti elasticizzati o ancora ti puoi mettere questi? Ti seguo sempre, grazie mille. Io non ho ancora comprato nessun vestito prima mamma, niente di niente. Fortunatamente riesco ad indossare ancora i vestiti che ho nel mio armadio, adesso poiché è arrivata l'estate, io utilizzo tanto i vestitini come questi, quindi via, mi va benissimo tutto, perché sono... Io non ho mai indossato comunque vestiti ultra attillati, super aderenti, quindi bene o male, al momento riesco ad indossare ancora tutto. L'unica cosa che ho smesso di mettere sono i jeans, però vi dico in estate io, in realtà i jeans non li mettevo quasi mai, quindi non è un problema. Sicuramente dopo l'estate, quando ci sarà proprio il pancione, perché ho il termine a fine ottobre, allora lì sicuramente dovrò prendere magari dei leggings, prima mamma o comunque dei vestiti indicati per le donne in gravidanza. Al momento fortunatamente non ho dovuto stravolgere il mio guardaroba, contentissima anche di questo. Che idee hai per la stanza della creatura? Giocherai con i colori oppure no? Quale stanza sarà? Ho un po' di idee per la cameretta, assolutamente sì, non vedo l'ora di iniziare, di partire, non sarà una camera colorata, o meglio, ci saranno i colori ovviamente, però lo stile sarà molto simile al resto della casa, quindi una cameretta molto essenziale, non troppo piena di cose, pulita diciamo, non ci saranno, cioè non la riempirò di oggetti, eccetera. Sicuramente ci sarà un po' di colore, adesso dobbiamo decidere che colore scegliere, per la cameretta, magari dare il colore alle pareti, se mettere una carta da parati, eccetera. Però vi dico che linea di massima sarà... riprenderà lo stile della casa, ecco, quello sicuramente sì, e la stanza che utilizzeremo sarà lo studio, che è quella che vedete meno nei miei video, perché è la stanza alla fine sempre stata incompleta di tutta la casa, lì faremo la cameretta, che è anche abbastanza grande, quindi riuscirò a mettere tutto quello che riguarderà il baby. Ahimè ha avuto voglie, ma in realtà no, non una voglia in particolare di mangiare quel determinato piatto, o quel determinato alimento. No, non ho... non ho una voglia precisa di qualcosa, mangio un po' tutto quello che ho sempre mangiato. Hai fatto il test del DNA fitale? Assolutamente sì, l'abbiamo voluto fare, non è obbligatorio, è un esame in più che si fa nel primo trimestre di gravidanza, che serve per riscontrare se ci sono anomalie cromosomiche nel feto. Il nostro risultato, fortunatamente, è stato a basso rischio, e lì viene segnalato anche il sesso del bambino, perché essendo talmente preciso come test, perché va a prendere comunque all'interno del... semplicemente con un prelievo di sangue va a prendere anche il DNA del feto e si evidenzia anche il sesso del bambino, tra cui però le cose più importanti che sono le varie anomalie cromosomiche. È una cosa che non tutte fanno, anche perché ha un costo abbastanza altino, devo ammettere, però noi abbiamo preferito farlo per essere più tranquilli. In famiglia non avevamo situazioni tipo sindrome di Down o cose di questo tipo, quindi potevamo anche evitare, diciamo così, di farla, però per una nostra sicurezza, per essere più tranquilli, noi abbiamo preferito farlo, e fortunatamente, insomma, il risultato è stato basso rischio e ci siamo, diciamo, tranquillizzati ancora di più. Poi, ci stavate provando da tanto? Prendevi la pillola prima? Spero arrivi anche a me. Sicuramente arriva. Prima o poi arriva, l'ho imparato. Io prendevo la pillola, l'ho presa per tantissimi anni, viene dieci anni di pillola, e quando l'ho interrotta non abbiamo cercato subito la gravidanza, comunque ne ho voluto dare il tempo al mio corpo di riprendersi. Dopo abbiamo iniziato a cercare la gravidanza, che come vi ho già detto, non è arrivata nel giro di qualche mese, come invece mi aspettavo, però devo ammettere che quando ho visto il test di gravidanza positivo, i mesi precedenti di, diciamo, tesa li ho dimenticati del tutto. Quindi sicuramente anche tu vedrai il tuo positivo e sarai felicissima. Ti mando un bacio e ti auguro che questo accada il mio più presto possibile. Sto parlando come una macchinetta e ci sono ancora un sacco di domande, quindi cerco di essere più veloce, perché ho visto che sto già registrando da una vita e non voglio stufarvi. Hai avuto la toxoplasmosi? Con i cani sei più attenta? Allora, la toxoplasmosi non sono immune, quindi non mangio i salumi, non mangio la carne cruda, il pesce crudo, la frutta e la verdura la lavo, con, ad esempio, utilizzo la mucchina, e poi per il resto mangio tutto. Per quanto riguarda i cani, sì, sto più attenta, cerco di magari non farmi baciare troppo vicino alla bocca, cosa che ogni tanto loro fanno, perché si sa, i chihuahua, comunque i cani in generale sono molto affettuosi e leccano tutta la faccia, quindi cerco di evitare il contatto in quel senso. Però anche con loro l'orecchio ho cambiato drasticamente, insomma, vivo tutto molto molto serenamente. Anche questo aspetto con i cani lo sto vivendo proprio molto molto tranquillamente. Ho una 500, meglio cambiare auto, io ti dico una 500 cabrio, che è anche peggio, perché il baule della 500 cabrio è più piccolo, l'apertura del mule è proprio più piccola, quindi inserire il passeggino sarà molto complicato, infatti stiamo pensando anche cosa fare su questo aspetto. Io ti dico, la macchina non la cambio, non ho assolutamente intenzione di cambiarla, è una macchina piccola, so che c'è chi la cambia quando scopre di essere in dolce attesa, io al momento otterrò quella, poi si vedrà, però non penso proprio di cambiare la macchina. Troveremo un'alternativa per il passeggino, perché penso che sia quello il tuo dubbio, comunque per mettere l'ovetto in macchina è un po' più complicato, perché comunque è una macchina piccolina, però io continuerò ad utilizzarla, poi comunque ti farò sapere. Hai preso l'acido folico prima della gravidanza nel primo trimestre? Sì, l'ho preso, perché comunque noi la gravidanza l'abbiamo cercata, quindi quando io ho parlato al ginecologo del nostro desiderio di cercare la gravidanza, lui mi ha prescritto l'acido folico, che ho iniziato ad assumere, lui mi ha detto di prenderlo almeno un mese prima di cercare la gravidanza, e così ho fatto, quindi l'ho preso prima di cercare la gravidanza, quindi per un mese l'ho preso, poi abbiamo iniziato a cercare la gravidanza, e l'ho preso anche nei tre mesi successivi, proprio come mi hai scritto tu, e adesso che sono nel quinto mese non lo prendo più. Nessuna domanda, sei semplicemente meravigliosa, ma che carina che siete, grazie, grazie mille. Ciao, è normale avere piccole fitte e tensione al basso ventre? Sì, è normale, come anche vi ho detto prima, un po' di crampetti nella pancia, seppur pochi li ho avuti anch'io, quindi non preoccuparti. Per esempio, una cosa che io ho notato, che ho chiesto al ginecologo, mi capita non sempre, quando starnutisco, di avere delle fitte all'addome, infatti mi sono anche preoccupata, però il ginecologo mi ha detto che è totalmente normale, è proprio la zona addominale che si sforza un po' di più, e quindi ci sono le fitte, tutto tutto normale, stai tranquilla. Hai paura del cambiamento fisico? Io sì. Allora, ho paura fino a un certo punto, nel senso che al momento il mio corpo non è cambiato drasticamente, quindi sono ancora contenta, cioè sono contenta che bene o male il mio fisico sia rimasto, al momento quello, però so che con i mesi la pancia crescerà, e magari prenderò, sicuramente prenderò più chili, e il mio aspetto un po' cambierà, è normale, è normale che sia così, non sono preoccupata, perché comunque poi ti porta a una cosa meravigliosa, e poi c'è tempo, ci sarà tempo successivamente per tornare in forma, se è quello che vuoi, però no, io non sono mai preoccupata sull'aspetto del cambiamento fisico. A quanti giorni di ritardo hai fatto il test, le prime beta, e poi dopo quanto le hai ripetute? Allora, come vi ho detto, il test l'ho fatto quattro giorni dopo il ritardo, le beta le ho fatte, io ho fatto il test il sabato, le beta le ho fatte il mercoledì, se non ricordo male, sì, il mercoledì mattina, il risultato mi è arrivato direttamente subito il pomeriggio, e non le ho più rifatte, erano già alte, e non le ho rifatte, non mi è stato richiesto al ginecologo di rifarle, quindi le ho fatte soltanto una volta. Stai lavorando o sei già in maternità? Io sono in maternità anticipata dalla prima ecografia, quindi io da metà marzo che sono già in maternità, infatti mi sto godendo appieno questo percorso, perché essendo comunque, non lavorando più qui sui social, e comunque continuo a lavorare, ma non avendo più l'impegno di andare in negozio tutti i giorni, ho più tempo per me, per gestire tutto, e sono contenta di tutto questo. Prima del test sentivi di poter essere incinta? Avevi sensazioni diverse dal solito? In realtà no, io non sentivo di essere incinta, cioè non è che ho detto faccio il test perché so di essere incinta, ho fatto il test soltanto perché ero in ritardo, il ciclo era in ritardo, però non mi sentivo diversa, e vi dico che neanche adesso mi sento diversa, quindi penso un po' a te. Stai valutando l'omeopatia per il parto travaglio? Se sì, ne potresti parlare. Ci credi che non so di cosa stai parlando? Tante cose per me sono ancora un po' un punto di domanda, un po' lontane, su certi argomenti mi devo ancora un attimo informare, se sapete di cosa si tratta fatemelo sapere, e poi magari ne possiamo parlare insieme. Questa era l'ultima domanda, perché tutte le altre bene o male sono simili, si ripetono, quindi ho già risposto, so che il video è venuto lunghissimo, quindi perdonatemi, però volevo rispondere a tutte le domande che mi sono state fatte, perché insomma ci tenevo a rispondere a tutte. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia, io vi mando un grandissimo bacione, noi ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao ragazzi! Ciao!